Ed è iniziata in Consiglio regionale la maratona per l'assestamento di bilancio. Ci sono state le relazioni di maggioranza e di minoranza. Il Movimento 5 Stelle ha puntato il dito sulla ricapitalizzazione dell'aeroporto regionale. Per il resto non si prospettano particolari variazioni rispetto al testo che è uscito dalla Commissione. E allora vediamo il servizio di Roberto Bonaldi. L'assestamento di bilancio entra nel vivo in Consiglio regionale. Il dibattito appena iniziato vedrà discutere i vari emendamenti ma al momento non sembrano prospettarsi grandi variazioni sulle voci a cui sono destinate le somme. A sollevare il dibattito ancora gli esordi sono però i 5 milioni di euro a favore della società Aeroporto Flulli Venezia Giulia. Cifra emersa negli ultimi tempi, sottolinea il Movimento 5 Stelle, che chiede chiarimenti, così come sul tema della sanità, come sottolinea Elena Bianchi. Abbiamo ancora l'annoso problema delle liste d'attesa e sembra che vogliono in qualche modo svincolare gli obiettivi dei direttori sanitari sull'accorciamento e sulla gestione di queste liste e questo non ci trova assolutamente d'accordo. Il dibattito animerà l'aula del Consiglio regionale per tre giorni, con l'approvazione dell'assestamento prevista giovedì. Sullo sfondo resta la quota complessiva dei 210 milioni di euro da destinare alle diverse voci, con la quota maggiore rappresentata da infrastrutture, lavori pubblici, trasporto e mobilità.